Sblocco effettuato. 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 A causa delle incerti, questa è una volta di interparcia. Grazie a tutti. 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 Fuori dai piedi! Grazie a tutti. 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 fuori dai piedi. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Sintesizzazione in corso. Sintesizzazione completata. Rimuovere ora il contenitore. Sintesizzazione completata. Grazie a tutti. 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 Ma che razza di posto è questo? Grazie a tutti. Oh, ma che cosa abbiamo qui? Nicolai, no! Alla città serve il vaccino. Più che a me? Forse non sono stato molto bravo a farti capire una semplice cosa. Direi che no. La vita per te potrà anche non avere prezzo. Ma io sono in questo business per fare soldi. Quindi facciamo un patto. Tu vai là sotto e affronti il Nemesis. Io registro i dati di combattimento e li vendo. Fai del tuo meglio e... Forse non mi servirai il vaccino. D'accordo? Bene. Andiamo. No. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Altri zoppi in arrivo! Numero sei! Eeeh! E arrivano altri! Numero sei! Ci penso io! Era quello che volevo! Stava bene. No! 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 Altri zombie in arrivo! Partenza! Che! Ciao! No! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, ma che cosa abbiamo? Nicolai, no! Alla città serve il vaccino. Più che a me? Forse non sono stato molto bravo a farti capire una semplice cosa. Direi di no. La vita per te potrà anche non avere prezzo. Ma io sono in questo business per fare soldi. Quindi facciamo un bacio. Tu vai là sotto e affronti il Nemesis. Io registro i dati di combattimento e li vendo. Fai del tuo meglio e forse non mi servirà il vaccino. D'accordo? Bene! D'accordo? D'accordo? Sì, sì, sì. No! No! Jill, sei tu! Carlos! Dai, Rebecca! Individuo io per te. Ok. Jill! Tieni duro! No! A teca, hai compagnia! È dietro al Germatoio 3! Ora, fermate quel passato! No! Altri zombie in arrivo! No! Si! Non! Non! Sits! Si! Non! 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 E arrivano altri! Ho visto dietro l'otto! Altri zoppi in arrivo! E indietro il numero otto! Sì! Sì! E arrivano altri! Numero sette! Ci penso io! Era quello che volete! Ma va bene! Sì! No! 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 Altri zoppi in arrivo! A sinistra! Non fermarti! Ormai è quasi pazza! So! No! 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 E arrivano altri! Numero quattro! Attacchi a questo! Jim! Ti mando la gru! Usala per venire qui! Forza! Forza! Jim! Stai presto! Ora salta su! Grazie a tutti Ok, io vado avanti Nicolai, dove diavolo sei? Devo riprendere il vaccino Ok, io vado Ok, io vado avanti Ok, io vado avanti Ok, io vado avanti Ok, io vado avanti È finita Dammi il vaccino, figlio di puttana Oh, no, no, no Tu porti i denari Io amo i denari Possiamo diventare soci, mio Dio Ora butta l'arma Hai mai... hai mai visto una creatura così incredibile? I suoi dati potrebbero valere milioni Ma... sai com'è, no? La città sta per esplodere E per te la vita non apprezzo Buona fortuna! Nicolai! Gin! Gin! Insegui Nicolai! Ha preso il vaccino! E tu che farai? Non abbiamo più tempo Me la caverò Ne sono certo Ok Sai una cosa Ora ti ammazzo una volta per te Aperto all'espontato! Ora si Raffreddamento in corso. Riaffimare le fonti eccezionali. Merda, devo riattivarlo. Raffreddamento in corso. Raffreddamento in corso. Raffreddamento in corso. È finita. Dammi il vaccino, figlio di puttana. Oh, no, no, no. Tu porti i denari. Io amo i denari. Possiamo diventare soci di questo. Ora butta l'arma. Non? Ah! Oh, no! � Ma, sai com'è no? La città sta per esplodere! E per te la vita non ha prezzo! Buona fortuna! Nicolai! Jill! Insegui Nicolai! Ha preso il vaccino! E tu che farai? Non abbiamo più tempo! Me la caverò! Ne sono certo! Ok, sai una cosa? Ora ti ammazzo una volta per te! Apertura scontatta! Ora si ragiona! Raffreddamento in corso! Riattivare le fonti energetiche! Merda! Devo riattivarlo! Raffreddamento in corso! Raffreddamento in corso! Don't mindero! Raffreddamento in corso! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora ti sistemo io! Una fonte energetica è rimasta. Grazie a tutti. Tutte le fonte energetiche attivate. Accensione. Vedi che non sia in grado di farti vuole! Tutte le fonte energetiche attivate. Non ho mai! Sono portato il video di là! Finalmente. Tutte le fonte energetiche attivate. Tutte le fonte energetiche attivate. Tutte le fonte energetiche attivate. No, no. Spero che Carlo solo abbia viso. Posso ancora fermarmi? Posso ancora fermarmi? Oh no! Non riuscirai a fermarmi. Era questo che volevi, non è vero? No! Ti rendi conto di cosa hai appena fatto? Non so e non mi importa. Gli ordini del mio cliente sono di distruggere la Umbrella. Dieci minuti all'impatto del missile. Ah, hanno lanciato il missile. Io ora esco di scena. Addio, Jane Valentine. Avreste dovuto ascoltarmi al momento giusto. Di saranno tutte le stagioni di Teams. Jane! Bill! Sparagli! Ma colpirei anche te! Fallo! Devi farlo! Non c'è altro modo! Carlos! Ehi! Te l'ha detto che non puoi stare senza di me. Ci è mancato poco. Che ne facciamo? Perché lo hai fatto? Ogni cosa ha il suo prezzo. Persino ridurre il mondo in cenere. Dimmi per chi lavora. Te lo dirò se mi tirerai fuori di qui. Pagherò qualsiasi cifra. Sei una stupida. Sei una stupida! Se morirò, non saprai mai la verità! Preferisco scoprirla da sola. Ehi! Tutto ok? Ci sia. Adesso è finita. Adesso è finita. Addio, Racconsidi. Fu come se l'esplosione avessi spazzato via anche tutte le mie amici. Non era stato il virus a causare questa terribile ricerca. Ma la verità. L'avidità umana. Promisi a me stessa che l'Umbrella avrebbe condiviso le sue cene e ricorra a Coom City. Che l'avrei distrutta. Per sempre. No. Per sempre. La primavera. Che l'umbrella. Che l'umbrella. Che l'umbrella. È l'esplosione. Per sempre. Grazie a tutti.